Hanno licenziato mia sorella il primo giorno di lavoro Non per colpa mia, perché guarda, no no, ora ti racconto la mia storia Il colloquio com'è andata? Eh, vabbè, comunque poi ti hanno presa Primo giorno di lavoro Sì, cosa è successo? Eh, cosa è successo? Sono andata un po' in ritardo per un'ora, ma... Di un'ora? Non me l'avevi detto di un'ora? Insomma, dieci minuti Sono 32 gradi, vedo un po' lei Avevo sete e avevo anche un leggero manchino Ma guarda, però non è anche finito sto panino E dopo aver raccolto il panino per terra No, ma avete capito, avete capito Cioè, non ho fame, avevo sete No, no, eh, mica me l'ha fatto mangiare, scherziamo Sei entrata e cosa è successo? Visto che io faccio la cameriera, no? Sono presenti E arriva sta qua, sta signora e mi fa Avevo un caffè Ma che cazzo sei? Ma dimmi, per favore Per cortesia Fammi un caffè Io non ne l'ho fatto Ma io non ne l'ho fatto Si vede che siamo in Italia Ma io qua No, io sto tipo Ricapitolando Sei arrivata in ritardo di un'ora Sì Non hai fatto il caffè alla signora Ma com'è che ti hanno detto Ok Queste domande sono nel processo di Johnny Depp, non lo so Ma com'è che ti hanno detto Ok, adesso rimani a casa Il tuo primo giorno Non piace Ok Mi è stato domandolo Perché Ma vieni Com'è che ti hanno detto Non finire più a lavoro Al tuo primo giorno Così Allora ragazzi Se cercate qualcuno Per lavorare Questa è la mia immagine del curriculum Posso fare anche la ragazza immagine Allora Se volete Basma Che lavori per voi Mi raccomando Scrivetemi in DM Ok Basma Così troviamo lavoro Basta che non fai più ritardo Mangiando al McDonald's Avrò sete Anche quel giorno Numero E